Entrambe vogliono tornare a giocare e a macinare punti dopo lo stop forzato di domenica scorsa a causa coronavirus. Da una parte l'Aprilia che vuole dare continuità alla miniserie di 4 punti raccolti nelle ultime due partite. Vittoria contro la Reca Matese e Parigi 0-0 contro il Matese. Dall'altra invece il San Nicolò Notaresco che viene da 10 risultati utili consecutivi ed è a soltanto 5 lunghezze. Dal Campobasso capolista, dallo stadio Quinto Ricci di Aprilia, Aprilia San Nicolò Notaresco. Un saluto da Riccardo Selvi e Federico Falcioni, amici di Sport in Oro. Fischia intanto Telli Carpini, è cominciata Aprilia San Nicolò Notaresco. Bosi in mezzo a due, qui grande giocata per Bernardini. Riesce ad imbolarsi ancora Bernardini in aria trattenuto da Sorreni, circa al destro. Bernardini il salvataggio sulla linea da parte di Speranza. Rinvio lungo Bianciardi, Mateus la sponda a far proseguire Palumbo. Attenzione perché prova addirittura il tiro dalla distanza e fuori dai pali prudente che non deve intervenire. Punizione per il Notaresco in zona interessante, sempre Frulla e Banegas sul punto di battuta. Parte Banegas e va direttamente in porta. Alla fine c'è il tocco di Mateus e pallone che finisce fuori. Alla fine non c'è fallo di Pezzone che riesce a guadagnare spazio. Cerca il cross per Bernardini, tutto solo in aria, Bernardini e Shiba. Si trova il pallone tra le mani, occasione colossale per l'Aprilia. Ancora Bosi, serie di finte. Rientra sul sinistro, Bosi col sinistro, arriva il cross a cercare la sponda di Pezzone, poi la rovesciata di Succi. E pallone che finisce largo. Intanto la sponda di Mateus per Banegas. Lo scarico per Palumbo che va col destro. Pallone che finisce di pochissimo fuori, occasione notaresco. Ce ne marchi ogni tanto in aria, uno contro uno con Eppolaccio. Lo scarico all'indietro per il destro di Palumbo. Poi Mateus, il miracolo di Prudente. Ancora Banegas, il pallone che finisce alto. Era tutto buono, non c'era fuori gioco. Da difensore la butta fuori dall'aria. Ancora però il notaresco. Qui la scivolata di Olivera. Incredibile l'ingenuità e calcio di rigore in favore del notaresco. Fischia degli Carpini. Banegas contro Prudente. Va col sinistro Banegas. Palla da una parte, portiere dall'altra. E il notaresco passa in vantaggio al settantaseiesimo. Grazie al tredicesimo gol stagionale di Banegas. E 1-0 per gli abruzzesi al Quinto Ricci. Attenzione intanto buono qui al break di Pollace. Che riesce ad entrare in aria. Va giù. Calcio di rigore. Incredibile. Rigore per l'Aprilia. A terra Pollace. Fischia degli Carpini. Bosi contro Sciba. La rincorsa di Bosi che fa col destro. La parata di Sciba. Incredibile. Salva il risultato. Il portiere albanese conserva l'1-0 per il notaresco. Riflesso strepitoso. E fischia per tre volte in questo istante. Il notaresco espugna il Quinto Ricci di Aprilia. Grazie al calcio di rigore realizzato al settantaseiesimo da Banegas. Ma al novantesimo Sciba ha respinto il penalty di Bosi. Conservando di fatto la vittoria per gli abruzzesi. Che in questo momento sono secondi. Quota 45. Quota 45.